è stato gentile da parte di calicetta invitarci per un picnic vero magman chissà che scorpacciata di spaghetti magman la sembra scritto da reddado care tazzine bacate io e il resto della gang abbiamo preso possesso dell'isola calamaio calicetta è ora una gradita quanto permanente ospite di una dei nostri casino vi sfido a trovarla se ci riuscite dobbiamo trovare calicetta e tu potrai aiutarci se hai bisogno delle istruzioni su come accedere agli hotel controlla la guida che puoi trovare su steam ciao ragazzi ciao a tutti io sono carichissimo per questo nuovo show di cuphead che deve arrivare ci sto giocando è bellissimo è troppo difficile ma voi supportatevi nei miei canali se volete iscrivetevi anche al patrion che schifo non mi fa e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video come sempre accetto request mandatemene dove vi pare ciao